buon pomeriggio di vigilia di vigilia di vigilia ci siamo ci siamo stiamo abbiamo sentito la conferenza stampa di fonseca vedremo vedremo se la sua filosofia domani troverà nei giocatori quello che ci vuole la spinta la convinzione l'orgoglio e allora si potrà andare avanti a discutere ma se non troverà questo lunedì lunedì sarà una giornata calda ovviamente mi auguro che domani invece ci sia uno scatto uno scatto d'orgoglio e insomma si possa finalmente festeggiare la vittoria di un derby che sarebbe cosa buona e giusta un like al video se insomma è un po' lo spirito con cui state vivendo questa vigilia la campanella per le notifiche l'iscrizione al canale gratuita un ringraziamento agli abbonati vecchi e nuovi allora calabria fuori dei giochi quindi anche emerson royal sarà chiamato a dissipare in molti dubbi che lo circondano ma per il resto della formazione aspettiamo in serata perché tanto entro mezzanotte arriva luca bianchin che avrà dall'interno di milanello le informazioni giuste ci darà quella che sarà la formazione con cui affronteremo questo derby questo derby in cui tutti ci vedono spacciati e probabilmente visto l'andamento delle due squadre non hanno torto sta a noi smentirli sta a noi tirare fuori dal cilindro qualcosa che fino adesso fino a questo momento non abbiamo ancora visto però oggi avete visto la copertina save dei nutria c'è motivo se ho fatto questa copertina perché ho spunto arrivato da un'iniziativa del vvf del vvf non avendo niente di meglio da fare ha pensato di mettere il suo timbro sul tentativo di fermare lo stadio a san donato come come in un modo che da un lato fa ridere e dall'altro fa piangere fa ridere perché è una cosa talmente talmente ridicola che fa ridere però dall'altro fa piangere perché se pensiamo a questo paese la città di milano la città metropolitana ea come siamo ridotti e insomma sarebbe da piangere no sarebbe da piangere e cosa dice il vvf il vvf secondo l'area di san francesco quella che il milan ha comprato recintato e ora bonificherà è un'aria dall'alto valore dal punto di vista biologico cioè proprio un'aria da tutelare sono preoccupati sono preoccupatissimi vedete se non sapessimo quell'aria come conciata e magari uno ci può anche credere magari uno ci può anche di può anche dire però giorno devo l'iniziativa del vvf il problema è che io non è che ci abito tanto lontano molti di voi ci abitano più vicino ancora e insomma per chi magari abita un po più lontano ecco quella un'aria in cui magari si possono tutelare i tossici che la frequentano oppure magari diversi tipi di siringa che si possono trovare sparsi in giro e vorrebbero forse evitare che il milan bonifichi questa zona perché invece così ci sarebbe questa bella visione delle varie della varia zona in mano alla delinquenza i tossicodipendenti e queste grandi distese fiorite e vedono solo loro nell'aria san francesco e noi la mettiamo sul ridere la mettiamo così perché in effetti è una roba da ridere però i danni che fanno poi questi perché poi dopo è chiaro che al tar ci sarà una testa forse pensante forse che magari avrà dei suoi orientamenti dei suoi pensieri e quindi tu sei un progetto con più di un miliardo di investimento è nelle mani e nella testa di questi che poi devono giudicare vedete ad esempio oggi è successo che ieri il prefetto di torino ha detto ai tifosi di napoli no voi non potete venire perché siete brutti e cattivi non potete venire a vedere juventus napoli un tifoso di napoli ha giustamente fatto ricorso al tar il tar del piemonte ha detto che il prefetto aveva fatto una cosa che non si poteva fare che non era giusto fare quindi cancellando quella che era la decisione del prefetto peccato che manchino tre ore due ore quando vedete il video magari stanno già giocando all'inizio della partita ecco questo è questo paese noi siamo questa roba qua noi siamo questa roba qua noi siamo questa roba qua guardavo oggi i video dell'alluvione mi spiace molto per in Emilia Romagna per chi ha subito ancora questi danni però insomma fa impressione vedere tutti quei tronchi che sono stati tagliati e abbandonati sull'argine che poi sono entrati tutti e hanno formato un tappo che poi ha creato un disastro ci sono dei video che sono impressionanti ma noi siamo in mano questi capite noi siamo in mano a questi qua piuttosto che pulire i tombini pulire gli argini sistemare le cose meglio aggrapparsi al cambiamento climatico capite siamo in mano a questi personaggi che poi i cui danni pagano poi i cittadini che si trovano in queste difficoltà e quindi a loro che gli frega che l'area di San Francesco sia bonificata pulita tolta agli spacciatori e che sicuramente il verde che nascerà intorno allo stadio sarà un verde curato bello di giardini di fiori di piante mentre invece adesso è tutta sterpaglia ma loro cosa volete che importa questo loro non importa non importa loro devono devono sventolare la loro bandiera bandiera bandierina quella bandierina verde quella anche del WWF adesso anche il WWF l'UNESCO il WWF poi meno male che le strade le autostrade e le ferrovie le hanno costruite tanti anni fa perché se no penso che ancora cercassero di farle adesso adesso non si riuscirebbe non si riuscirebbe adesso a farle per fortuna li hanno fatti li hanno riusciti a fare tanti anni fa per cui per andare diciamo a Firenze o a Bologna o in Meridione è possibile fare l'autostrada diciamo non ci vogliono magari 7-10 ore facendo le strade interne perché io sono convinto che se adesso volessero fare non ci riuscirebbero non ci riuscirebbero perché poi le nutrie e ragazzi non vogliamo tutelare le nutrie dell'Oasi San Francesco a San Donato ragazzi le nutrie vanno tutelate non è che si può così non tutelare le nutrie non si può fare WWF San Rabbia, Monguzzi San Rabbia faranno sicuramente altri ricorsi al Tarra perché le nutrie sono importanti sono importanti per l'ambiente sono importanti perché fanno compagnia anche a così a chi magari va lì fa queste cose questi traffici, quelli stupefacenti insomma vuoi mettere a avere qualche nutria che ti dà il senso di una presenza della natura no io sto col WWF Save the Nutria io vorrei che Save the Nutria entrasse in tendenza perché è giusto per l'ambiente per Monguzzi che così Monguzzi sicuramente si freggerà poi nella prossima campagna elettorale perché lui non ne fa tutte le campagne elettorali non se ne perde una insomma avrà questo medaglio al valore di avere tutelato le nutrie dell'area San Francesco di San Donato milanese quindi se anche voi siete Save the Nutria mettete un like a questo video e iscrivetevi al canale Forza Milan sempre e comunque Grazie a tutti